buongiorgissima buongiornissimo a tutti ho appena finito di fare la videolezione mi sono rotto le balle quindi ho detto vabbè facciamo un bel video no prima premessa non mi sono allenato off camera perché ho detto dopo sarà troppo e dopo cioè non è bello essere livellati un po' non lo è però va bene seconda cosa il mercoledì ogni mercoledì io praticamente pubblicherò un video di 20 o 25 minuti quindi se vi va bene potrò farlo come vedete fire dai colpisci 5 volte wow utile come vedete fire e volta non sono saliti di nessun livello ditemi se io dovrei forse dovrei allevare dovrei allenare un po' clayferi perché potrebbe essere buono cioè no perché lo vogliono dati ma però potrebbe wow critico potrebbe essere buono contro l'attie allenatore che non non voglio far salire di più fire e volte perché volte ricordo per ora non ci serve niente però gli farò imparare fossa sì so che è una cosa molto brutta far imparare fossa a un po' come di tipo elettro ma non ci posso fare nulla perché ho fatto precire contro non ci lo preoccupo non ci posso fare nulla mi dispiace però dovrò fare così attivamente non si va da nessuna parte perché con fire posso farcela abbattere se giù però dopo c'è dov'è divertimento ma non è tipo che lei feri bellezza ma non è tipo che lei feri bellezza ma non è tipo che lei feri non voglio uno uno la versione di slobocca perché non mi piace molto ok che è un psico tipo buono no non lo voglio dai porca boia critico critico eh vabbè ecco il feri si è servito tanto un attimo dai paras che ce la puoi fare dai paras che ce la fai siiii se l'ha fatta paras 180 non sale ovviamente eccola pam pam abbiamo battuto questo buono ok continuiamo non sto allenando ovviamente non sto facendo la lotta con non sto non sto facendo gli allenatori con coso e per coso sto intendendo volte perché non c'ho voglia ehm attenzione a questa allenatrice proprio la già credo che già lo sapete eh i nitoron hanno avere un punto quindi attenzione fire sale come dio e vabbè comunque domanda del giorno indovinate il pokemon di tipo il no aspettate indovinate il terzo ti il terzo pokemon il mio terzo pokemon del team no non è la lotta in doppia che balle voglio fare la lotta in doppia dai vedo anche voltino saliva cioè di esperienza e dai quanto ti odio madonna madonna quanto odio questo che c'è il 4G che rompi ball vabbè che gli squarta in un colpo però madonna comunque devo ringraziare endermaster che ovviamente lui sì che è un amico ti odio scherzo dai oh te pareva eh che mi stavo ora si fa rosare di di difesa e non lo colpisco più se lo colpisco rimane uno di vita quindi sì eccola dicevo io comunque fire sarà fire salirà a livello 28 idem per cosa per volt però il il nuovo pokemon se sempre riesco a trovarlo la palestra se la farà lui è di tipo terra a svito degli indizi è di tipo terra veleno credo che tutti sanno che il pokemon sto parlando però perché c'è un matchup credo che tutti sanno chi è però indovinate chi dice hashtag il nome del pokemon io metterò il cuoricino ah ah noob no allora ma se io cercherò di schivare gli allenatori perché dopo ehi te parevo perché dopo sono troppo livellato credo che già sono troppo livellato per surge credo che il pokemon di quale di che sto parlando eh se la farà proprio tutta lui affossate sui denti e avvelino spinate no cioè si oh fuck non voglio mandare volt però vorrei mandare volt scherzo gli farei il culettino mattonda quanto sei forte fire troppo forte sto pokemon eh si devo mettere avanti volt vero se no so cavoli lo ricordi mi devo ricordare che dopo aver avuto volo e dopo aver avuto anche taglio devo andare qua allora questa è un'altra levatrice ciao vi vedete questo è un'altra levatrice che volt farà ho visto che volt è una bestia in attacco la prima volta che mi stavolta madonna oh tre di vita schifo ok ora mi sono rotta le balle bambini giovanni mucciaccia oh pg vai 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 pg tu ti becchi un bel fulmine sui denti ci vediamo domani no critical odysh storia di un grande morte odysh storia di una grande morte odysh storia di un grande morte odysh andiamo da Bill salve Bill buongiorno si si so che sei Bill si si adio ok che poi che bello diventato un califeri neanche che è un po' un raltata che fa il più schifo popora popora ok rega ehi aglione che mi dici ok allora vediamo non mi ricordo dove si vedevano i pokemon dove si vedevano l'evoluzione di ivy dal pc si what the shit mi ricordavo che si vedevano l'evoluzione di ivy e ivy andiamo non devo sfidare questo ma di certo il gioco lo farò sfidare che culo addio buongiorno addio a lui di qua attimo che cerco il pokemon buongiorno ehm comunque ok mi sono rotto vi dirò questa cosa ehm il pokemon di tipo veleno che tutti saranno che tutti lo sanno è ehm è nidoran maschio o femmina però voi ehm se con molto piacere mi dite dove cioè dove si trova nidoran grazie sì perché non ho mai perché non ho mai trovato un nidoran porca boia buongiorno vuoi una mano aspetta che ci sono due schiaffoni super sonic che madonna sonic levati proprio ah ma c'ho pino eh chi è che c'ha i muscoli vediamo un po' eh eh ops volevo fare mega pugna volevo dire che che aveva più muscoli io però vabbè no bravissimo cosa è drosi buongiorno drosettino vuoi un bel pugno in bocca tua madre brutta allora allora brutto figlio di puttana ma c'è tante di quelle cose che io devo vendere che mi danno un botto di soldi che manco le ho vendute no oh shit this mada fuck cos'è mangia sogni perché non mi fa mangia sogni sto coso scusa impari così ti impari brutto coso hello it's me e con del shit ecco il commento di enderman comunque io ti odio male fatelo dire credo che in questo episodio faremo anche se va bene no fuck allora ci vedremo nella grotta allora ah qui c'è la guardia che ha sete non so come si fa non so come si deve raggiungere però credo che ad azzurropoli si azzurropoli ci siano i distributori automaci quelli là che danno l'acqua i lemon succhi credo che quello vorrebbe ok allora ok voglio andare a thunderbolt thunderbolt non so dove si dove si va per la prossima città credo scusate ci ho giocato poco a sto gioco cioè ci ho giocato si e no più o meno comunque se leggete pokemon zaffiro quello là emulator non vi preoccupate questo è rosso fuoco che si vede pure però vabbè a proposito del canale del mio amico endermaster 28 brutto pronuncio lì caricherà un pokemon zaffiro se ho sbagliato detto così ok le siete già superato brutto scoglione questa è una copietta non voglio fare un ca riesco a schivarti a te non riesco mai a schivarti oh buongiorno mia no fuck mi ha sfidato eh vabbè arrivò a livello 28 dai comunque sì prima della palestra se mi dite dove si trova nidoran grazie perché non voglio far insegnare fossa a volte perché dopo cosa gli tolgo W team W team è utile molto utile troppo utile allora sì come avete visto ho messo la numero 5 come cosa come non lo so però vabbè sì ho messo quella fucking mother fuck e voi ci siete cascati di nuovo no non prenderò un nido king non lo voglio è molto buono sto coso lo renderò off camera ripeto lo chiamo trio naso trio aspetta dov'è n n ho ne scelto trio naso vabbè trio no vai trio naso che questo trio naso mi ha ucciso pikachu l'ho ucciso volt quindi devo riandare al centro pokemon ok trio naso livello 20 posso fare qualche posso fare almeno qualcosa a livello 20 cacchio sì trio naso non so a che livello si evolve però credo che ha un buon livello verso livello 20 ecco qui avremo delle difficoltà perché trio naso è già meno uno di livello però a meno me ne fotte uso magnitudo faccio magnitudo 6 e credo che one shot trans invece trio naso utilino baffan cucco crocucu mannaccia craco thunderbolt mi ha ucciso trio naso sto caso umano se state chiedendo dove sto battendo wow sto battendo questa linea che qua non l'ho battuta prima volevo batterla con triunato ho battuto il primo pokemon poi sono andato anche con un po' di salvatici ho battuto tipo una cosa di 10 salvatici poi a livello di quel pg credo triunato e qua triunato poverino ah c'ha pure non l'ho mai vista va bene non facciamoci domande io non l'ho fatto imparare forza poi triunato poverino ti ha spaccato il pg triunato piccolino c'ho poche pokeball quindi me le compro tipo 28 ok repellenti ne ho comprati 30 repellenti mi bastano per fare tunnel non so non so che cacchio mi bastano e prima di qua per dire prima mn non voglio fare tutti gli allenatori della mn ann voglio soltanto prendere ok grazie voglio soltanto prendere taglio per il mio lato ok allora saliamo qua voglio andare a battere un certo allenatore cough cough questo allenatore si chiama il rompicoglioni eccola allora cosa che vuoi fare ti spacco il culo a terra ti spacco il culo a terra bananina poverina oh fuck c'ho pigiotto io non c'ho pigiotto non so parlare graffio comunque trionato c'ha una velocità gesualda che madonna neanche dio ecco quanto mi fa diminuire pezzente ti spacco la madre ora bene ma volete eh l'hai voluto tu eh l'hai voluto tu eh ancora con raffico sei scemo allora ragazzo mio ci vediamo all'ottretomba e addio è stato bello conoscerti pg8 se è il mio pokemon tipo volante preferito però pigiotto è il mio tipo volante preferito dopo tal non fai però eh mi spiace oh radicate te l'ho patto con passione vai dove tu vai alla bandonia vai a fare quel che cavolo vedete ti spacco il cubo aspetta un po' aspetta un po' e addio buco la nave ho bucato una nave arrabbiato con la vita il ragazzo mi dicono attenzione esce un pene dalla terra mi basta un bel graffietto per spaccarti quel dio la lotta di tue leggende la lotta fra leggende la lotta fra leggende comincia ora mi attacchi con watergun e sei un po' stronzo e so un po' stronzo pure io non è vero però credo che sia meglio fare ritirata pur stu cosa no merda eh per forza graffio non voglio mandare a volte perché è troppo easy voglio soffrire comunque sto avendola meglio bananina pega marina triolaso porca volta vai mi sono rotte le balle mega pugno in bocca e muori aspetta che ti mando da pg8 e ratikit aspetta un po' aspetta vai da pg8 e ratikit pum 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 ti piace le scosse elettriche spiegati questa 2,20 in bocca bitch trio aspetta che bucco di nuovo la nave la nave sta perdendo io credo ti farmi scambiare un un bop un un guendero però lui il rio naso va qui vai sotto attenzione esce un pene dalla terra madonna quanto gli ha levato madonna quanto gli ha levato se il rio naso sale a qualche livello a tipo a livello 30 e più in pari terremoto quindi addio magnitudo ok gary e vattene a a farti i cazzi tuoi gary ormai non ci serve tu non ci serve più quindi allora buongiorno signore vuoi una mano che schifo pokemon perché deve vomitare il capitale grazie ho avuto taglio ora vattene ora vattene bananina poverina allora buongiorno signori usiamo taglio con paras ok ora andiamo da dal coglione elettrico sfidiamo prima i ragazzuoli che ci sono qui e poi faccio il culettino anche all'altro coglione che poi è un marinaio però c'è pokemon di tipo elettro questa è la logica pokemon bambini basta wow un pene si nasconde sottoterra un pene esce dalla terra pen 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 un mio naso è la cosa più bella del mondo quindi statevi zitti se no chiamo la polizia scherzo perché poi perché un tipo elettro contro un tipo mi deve paralizzare perchè io sono vabbè uso slam quando mi ne faccio slam minchia tua sorella buttana e muoviamoci dai bananina poverina ti ha battuto ino skin ok mi dispiace molto che sei morto gary ovviamente batte la palestra prima di noi non c'è neanche come fa però vabbè ci vedremo davanti davanti ci vedremo davanti a quello stesso allenatore alle siamo ritornati cominciamo a cercare cerchiamo di trovare ok all'interno è battuto cosa voglio imparare terremoto giusto no qua c'è ok avevo battuto questo tipo trionaso è anche salito non si evolve maldito stupido ok trionaso è bellissimo quindi allora oh ok allora qui per forza vero pen pen sì scusate una domanda non l'ho mai fatto sta cosa oh mio dio quanto ci ho messo a fare ho battuto quell'ultimo allenatore e trionaso si è evoluto e ora è degno di avere questo nome trionaso is evolving trionaso ok ora abbiamo tre peni invece di uno d'actriosa era una bestia sabbia tomba eh sì sabbia tomba no per imparare frana ma tu pezzo di merda ma ti picchio male però nel prossimo episodio fammi che scemo io ciao mi sono curati pokemon andiamo 28 Eli vai triuunaso magnitudo 7 peggi 7 un trio naso un trio naso bellissimo che mi chiamo un trio naso pikachu quick attack magnitudo 7 peggie 7 facciamo un po' più veloce dai che mi stanno attaccendo le belle intanto io lo batto raiciu tu non puoi osare il miglior raiciu ce l'avrò io l'ho 24 dai che palloso oh fagli un bel magnitudo 10 credo che l'ho one shot perché prima io l'ho fatto di nuovo è rimasta a vita rossa non vi preoccupate contro erika sarò ender livellato non è vero mai però sarò ender livellato perché io si erika ci avrà pokemon a livello 29 io ne avrò tipo a livello 36 tutti quanti non è vero batterò a livello 81 tutti i miei pokemon tranne fire che è a livello che lo porterò a livello che livello devo portarlo non mi ricordo allora qua c'è il tizio del buno bici credo ok quindi si buono bici buono bici si però mi sono rotto già le balle di parlare con te e niente nel prossimo episodio che uscirà oggi pomeriggio andremo nel percorso 11 quindi ciao 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 ciao